Sull'arrivo delle risorse finanziarie per aprire il cantiere sul ponte Sente Longo, Trapela cauto ottimismo nelle stanze della provincia di Isernia. L'interruzione della viabilità tra Molise e Abruzzo ha creato notevoli danni sociali, economici e turistici. Il punto della situazione a Isernia sul viadotto Sente Longo, ad oltre 5 anni dalla sua chiusura improvvisa, per questioni di sicurezza. C'è cauto ottimismo tra le parti, ma alle parole in campagna elettorale del ministro Matteo Salvini occorrono adesso le reali intenzioni del governo Meloni e soprattutto una disponibilità finanziaria che si aggira attorno a 16 milioni di euro. Per le sorti dell'Alto Molise, il Medio e Alto Vastese, il ponte sul torrente Sente è strategico, ma il cantiere è ancora lontano dall'essere aperto per i necessari lavori di adeguamento delle pile. La riapertura del viadotto è prioritaria per la provincia di Isernia e per l'area dell'interno abruzzese, compresa tra Castiglione, Montazzoli, Roccaspina Alveti, Torre Bruna, Schiavi e Castelvidone, paesi che si appoggiano ad Agnone per l'ospedale Caraccio, lo scuole, attività commerciali e sportive. Tra il Ministero delle Infrastrutture, il compartimento ANAS e l'ente provincia, si vuole arrivare entro la fine dell'anno alla concessione del finanziamento, risorse che consentiranno successivamente di firmare tra l'Azienda Nazionale delle Strade e l'amministrazione del Presidente Alfredo Ricci, quella convenzione finalizzata farà avviare le opere sul viadotto e riaprire, anche a senso unico alternato, se necessario, al traffico veicolare. Dal canto loro i rappresentanti del Comitato Civico articolo 32 hanno chiesto alla parte politica di superare tutti gli ostacoli burocratici per evitare che i danni che le realtà di montagna hanno già subito da settembre 2018 ad oggi siano ulteriormente aggravati.